buongiorno a tutti anzi buonasera visto che tra poco inizieranno anche le partite della champions comunque prima gruppo o prima bolletta o gruppo di bollè chiamatele come volete o se preferite prime quattro partite che riguardano l'europa league ho scelto le prime quattro poi già preparato l'altra bollettina delle altre quattro aspettato un attimo a caricare perché sta caricando l'altro video vi si stava scaricando un attivino la ballerina la batteria ballerina la batteria del cellulare perché non avevo inserito bene lo spinotto e quindi non stava caricando quindi ho detto aspettiamo un attimo la lasciamo finire tanto si carica e poi andiamo avanti tanto c'è tempo fino a domani adesso è mercoledì quindi anche se ne vedete giovedì mattina non succede mica niente giovedì della notte non succede mica niente perché vedo che qualcuno è nottambolo che mi vede lì video anche alle 4 5 del mattino quando si caricano poi dopo gli altri li vedono con calma in giornata comunque ragazzoli io mi stavo dilungando un po troppo andiamo alla questione ho scelto queste prime quattro partite che sono quara magma cavi avversa ludogorez siva sport villareale csk a mosca volsberg volsberg quindi partiamo subito con la prima bolletta delle doppie quara magma cavi due un po rischiata perché la quota è alta la quota è alta il quara ma però non ha nulla da chiedere ormai è eliminato quindi non capisco come una quota oltre il 2 meglio per noi se dovesse uscire avversa ludogorez 1 si va sport villareale 2 e csk a mosca volsberg 1 con 5 ora se ne vincontro 37,52 seconda bollettina quara magma cavi is due ve lo consente la quota quindi mi gioco la doppia su quella avversa ludogorez 1 si va sport villareale x2 e csk a mosca volsberg 1 con 5 euro 16 ore 15 siccome siamo oltre le tre volte paga tre volte abbondanti la posta non ho voluto fare ulteriori sostituzioni o aggiungere qualcosa logicamente sia csk a mosca volsberg che ha bersa ludogorez no scusate al massimo potreste giocarvi eliminare si va sport si va sport villareale rischiare il 2 sulla vittoria del villareale ma siccome si va sport mi sa che vuole vendere cara la pelle da ci ammettiamoci gli sdue che siamo un attimino più tranquilli ecco diciamo mentre le altre due sono due partite in cui la squadra di casa è chiaramente favorita proseguiamo con la terza bollettina che questa è la doppia chance più over che mi fa l'imidide poi speriamo in bene che non facciano il braccino corto come ieri in champions voglio vedere dei gol giovedì d'europa league quindi con 5 euro 22 euro e 60 per i più coraggiosi opzione numero uno con 5 euro si va 27 euro e 94 per i brave art quelli coraggiosissimi i cuori impavidi che vogliono vincere un po di più quara maccabi sdue piover avversa ludogorez uno piover si va sport villareali sdue piover csk mosca bosberger uno piover con 5 euro se ne vincono 37,07 così vi ho dato le tre opzioni quarta bollettina dall'imidide coi fiocchi anche se io fiocchi ne ho pochi quara maccabi gol casa ambersa ludogorez gol ospite si va sport villareal gol casa lasc tottenham no cosa dico cska bosberg gol ospite lasc tottenham ho sbagliato a scrivere comunque con 5 euro 22 euro e 31 andiamo alla quinta bollettina qualabag maccabi gol piover avversa ludogorez gol piover si va sport villareal gol piover csk mosca bosberger gol piover allora uno dice gol piover sono difficili eccetera eccetera anche stavolta però attenzione che ieri ha fatto i furbetti hanno segnato pochino pochino l'atalanta ha segnato poco quell'altra ha vinto 1 a 0 doveva essere una partita da da stragoll hanno segnato all'inizio le due partite delle 18 e 55 ha fatto l'imidide perché ha segnato tutte e due almeno due gol sono saltati fuori poi basta poi le altre a parte l'inter che va bene si sa che l'inter è un roller coaster giro della morte eccetera ci deve far venire i patemi e quindi è finita 2 a 3 le altre 1 a 0 1 a 1 punteggi di così e vabbè comunque in questo caso qualabag maccabi il gol piover non è favorito ma c'è una differenza di 0,40 a favore del no gol pioander le altre tre partite il gol piover è favorito anche in maniera abbastanza abbastanza chiara comunque con 5 euro se ne vincono 103,49 con 4 gol piover se non vi sentite di mettere qualabag maccabi perché temete che finisca 0 1 0 2 e il qualabag non segni ma non credo visto che è l'ultima partita che giocherà in casa quest'anno in europa vorrà fare almeno la sua sporca figura segnare almeno un golletto potreste giocarvi sono le altre tre i tre gol piover delle altre tre che comunque pagherebbero lo stesso bene certo non arrivi con 5 euro a 103 arriverai a 80 75 ma fa libidi dello stesso vediamo la sesta bollettina questa invece è sconsigliabile tra virgolette qualabag maccabi telavin due più gol avversa ludogorez uno più gol si va sporvi la real due più gol csk mosca vosberger uno più gol con due euro se ne vincono 292,69 con 5 euro 731,73 però siamo alle solite perché qualabag maccabi il due più gol proprio ma non 1 e 35 di differenza a favore del no gol avversa lungo gol ci sta un attimo di più perché sono più o meno alla pari se non ero la differenza di 0,10 a favore del no gol quindi una una cosa infinitesimale quindi qua ci può stare si va sporvi la reale il due più gol anche qui siamo nell'ambito dello 0,60 di differenza a favore del no gol e csk mosca vosberger l'uno più gol no è perché il no gol è sempre qui anche qui è favorito c'è 1,10 di differenza a favore del no gol quindi logicamente vi ho fatto anche la bolletta con tutti i due gol quindi qualabag maccabi 2 più 1 gol alber saludo gorez 1 più 1 gol si va sporvi la real 2 più 1 gol csk mosca vosberger 1 più 1 gol e però non ho segnato quanto quanto viene la cifra quindi ho scusato un attimo ero convinto di averla scritta invece no vado a recuperarla al volo e ve lo dico chiedo venia chiedo venia ero convinto di averla scritta perché lo scrivo sempre no perché scelgo anche la bolletta il pizzino giusto con lo spazio dietro per poter scrivere anche l'opzione da berciu quindi qualabag maccabi 2 più 1 gol alber saludo gorez 1 più 1 gol che qua volendo usate un attimino la vostra testa se vi piace di più usare il gol perché c'è una differenza 0,10 ve lo confermo quindi è infinitesimale tra il gol e il no gol in avversa ludo gorez poi si va sporvi la real 2 più 1 gol e csk mosca volsberg 1 più 1 gol con 2 euro se ne vincono 104,42 con 5 euro 261,05 detto questo sperando che vi come vi dico sempre usate la vostra testa non copiate le bollettine al 100 per cento a meno che sono le prime quattro o meglio la seconda la terza la quarta che hanno ottime probabilità di uscire salvo che non escono i risultati folli perché la prima è già difficile quella con le fisse 4 fisse prenderle fa già libidine ogni tanto le prendo però diciamo che se dovessi fare un calcolo probabilità delle mie 6 bollette allora la prima un 50 per cento ecco diciamo che un buon 50 per cento c'è una possibilità su 2 che esca c'è la seconda quella con la con la doppia chance da sola due doppie due fisse siamo nell'ambito posso dire tranquillamente 75 80 per cento non voglio fare il fenomeno 75 80 per cento che è una buona percentuale stesso discorso per la doppia chance più over un buon 75 30 per cento ci sta il gol più over devo dire che siamo quasi al 90 per cento perché è quella che spesso e volentieri pure se sbaglio tutti i pronostici della schedina vado a vederla ho fatto 10 10 pronostici di schedina e ne ho azzeccati anche quattro ho fatto il gol più over ne ho azzeccati anche 6 7 vai a vedere il gol casa gol ospite presa magari è l'unica però la prendo e la prendo spesso ecco quindi diciamo che siamo sopra l'ottanta per cento sto schiscio lo stesso le ultime due diciamo che siamo sotto il 50 per cento tra il 30 e tra il 20 30 40 per cento di probabilità la quinta e la sesta siamo nell'ambito del 10 per cento ecco per intenderci però dovete anche tener conto che più si alza e più si incassa perché prendere anche solo una volta sola quella dell'uno più gol le quattro partite della doppia chance fissa più gol doppia combo fissa più gol è un colpaccio è veramente un colpaccio una volta l'ho preso l'ho presa campionato inglese 800 e passa euro con con cinque euro c'erano due euro erano quattrocento più o meno 350 quello che era comunque ragazzoli io come dico sempre usate la vostra testa se vi piacciono mi copiate se non vi piacciono scegliete quella che vi piace me la spostate lì magari sostituite i miei pronostici con altri e prendete spunto però gigi ha messo quella lo faccio l'opposto gigi ha messo così lo facciamo cosa al gigione anche lui la pensa come beh allora faccio uguale a lui se siamo i due due di si fanno una prova e giochiamocela così vedete voi detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao